Quando l'impresa familiare vende in tutto il mondo, a Varmo un'azienda che produce macchine industriali. Esistono eccellenze manifatturiere ed imprenditoriali delle quali a volte si sa e si parla assai poco. Una di queste è la SMI di Varmo che, nata come piccola azienda familiare, oggi ha commesse da tutto il mondo ma non dimentica di valorizzare il suo territorio. Ci racconta questa storia Andrea Romoli. È una realtà industriale solida e all'avanguardia, capace di esportare il 70% della sua produzione, dare lavoro a oltre 110 persone e costruire un'importante rete di indotto terziario sul territorio. Eppure la SMI, Sistemi Meccanici Industriali, con sede a Varmo, è nata e resta un'azienda a conduzione familiare. Io e il socio siamo appassionati subito del lavoro che stavamo facendo. Abbiamo seguito due direttive, una è quella della lavorazione contro terzi, tornitura e frisatura, e parallelamente è nato il reparto per sviluppare automazione industriale. La FMI è specializzata nella produzione di macchinari per la piegatura e la messa in opera di tubi metallici e in plastica e riceve commissioni dirette da grandissime aziende con sede in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina. All'interno della SMI lavora già la seconda generazione di giovani imprenditori, figli dei fondatori decisi a far crescere ancora l'azienda. Noi siamo in tre fratelli subentrati al posto del papà, ci siamo divisi un po' i ruoli, quindi sperando di dare più forza possibile in tutti i campi dell'azienda. Nuove generazioni di imprenditori, tutti comunque determinati a mantenere fortissimo il legame col territorio. Sentiamo molto legati al territorio, vogliamo valorizzare il territorio con appunto fornitori locali e una rete proprio di fornitori locali. Grazie.